Nei nostri politici che anche nel nostro paese ci sia una legge che regolamenti l'accompagnamento e la morte volontaria. Anche perché il semaforo verde lo puoi trovare appena passata la frontiera, al costo di 10.000 euro. A quel semaforo verde, però, ci si può sempre fermare e si può tornare indietro, come è successo anche ai mini, tanti anni fa. Sono uscito dall'hotel. Mi sono fumato due sigarette, una dietro l'altra. Ho pianto a notte. Sono rientrato e gli ho detto, va bene, torno a casa. Da oggi mi dedico alle persone che soffrono come me.